continua il mercato abusivo siamo a centocelle piazzale delle cardegni i residenti da mesi lamentano che a partire dalle prime ore della mattina si assiste allo spettacolo indecoroso di questo mercatino illegale delle pulci che oltre a chiasso degrado lascia la piazza letteralmente in uno stato di sporcizia che i residenti non avevano mai visto la merce a detta dei cittadini proviene da furti in appartamento frequenti nella zona quasi tutte le mattine arriva poi la polizia municipale o i carabinieri e fa sgomberare i venditori che puntualmente però tornano subito dopo la domanda dei cittadini possibile che non si riesca a porre un limite uno stop definitivo a questa indecenza che offende il decoro e diffonde la criminalità nel quartiere e quindi Grazie a tutti.